ciao a tutti dovremo essere in diretta se abbiamo fatto le cose come si deve oggi è il mio primo video di impantanamento con la 1 speriamo che ci sia pantano visto che oggi è fatto un sole però ieri abbiamo avuto pioggia e anche giorno prima e quindi insomma dovremmo avere abbastanza fango per riuscire a impantanarci eccola qua allora oggi iris sarà una veterinaria che deve correre in aiuto di una cavalla che sta per partorire e prova a vedere se per caso riesce a vedere i messaggi perché io vedo solo luigi che ci dice salve però poi a e anche andrea che ci saluta ciao ciao andrea e che non riesco una volta letti ad archiviarli e quindi non so se me li trovo poi in cronologia è un mistero comunque vi faccio vedere i piedini di iris pronti a sgasare a diventare una veterinaria famosissima è la veterinaria più famosa di torino assolutamente tutti i cavalli tutte le mucche che nascono a torino io e assolutamente ecco ecco ci sono ci sono riesci a vedere qualcosa stava provando a caricare i commenti e andrea finalmente un'altra diretta non lo vedi tu dicono finalmente un'altra diretta sì però io qua dovrei abbassare il volume e sì perché ti senti indifferita meravigliose grazie allora guarda io direi cominciamo a scaldare un po la macchina mettiamo il motore diamo giù due tre accelerate poi finiamo la diretta iniziamo il nostro video e poi magari ci ricolleghiamo dopo a clip terminata per far vedere in che stato è la 1 che ho provveduto a lavare stamattina potevi evitare ed è iniziamo pronta iris prontissima vai e io lascio sempre la prima inserita vediamo ancora una telecamerina che dobbiamo montare allora ricordiamo tutti i nostri fan che iris porta il 39 di scarpe anche 40 quando sono scarpe straniere e quindi se qualcuno vuole omaggiare iris di qualche bella scarpa col tacco possibilmente non ciabatte non ciabatte per favore ciabatte ne abbiamo ciabatte ne abbiamo e il benvenuto togli la ciabatta che facciamo vedere i piedini ai nostri fan hi ronny li vedo anch'io il messaggio adesso ciao fedele fede thank you rich hi say hello to rich who is one of our best friend hello special kiss for rich that's for you dear hi macedino poor fiat uno show me the solo of your feet just to see if there is the mark of the gas pedal no you have to push more macedino also wanna kiss what's a kiss from you ok ronny dice beautiful tones and someone sent a heart yes i think we have 20 degrees today and yesterday we were freezing we are having a really crazy period so now i'm really i want i don't know a t-shirt maybe something like that when it's winter people ask us to make videos barefoot and the next personal video please spring so no boots no coats just t-shirt no luigi i don't know if there is smoke but let's see no no smoke so iris are you ready yes we can start the video yeah ok salutiamo tutti e se riusciamo ci ricolleghiamo tra un'oretta per farvi vedere in che condizioni è la fiat uno if we can now we are going back in a approximately an hour once we have finished the shooting for another kiss live from miss iris for you ciao ragazzi see you later bye hi this time this time we are really really yes and i'm washing miss iris feet because they went into the mud and they are all dirty and she still has to make the end of the video but we want clean feet these are my boots in the water these are my boots in the water the port fiat uno is dirty no not even dirty as usual finally i don't have to wash the car again after stock never say never never say never never say never yes the video isn't and over ok 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 better but now i'm freezing yeah yeah but you can warm them up by revving a little bit the car and trying to get out of the mud ok let's try but i i think it's difficult this time because you are really stuck let me see what i can do go iris wait 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 i'm opening the door so that i can feel your feet also it doesn't stay open i know we have to find a solution go iris try not to wash me if you can i don't want to get dirty yes we are stuck i moved a little bit but ah 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 i cannot go forward because otherwise i get stuck again so it's better if i go oh let me try ah 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 ok no 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 it makes a strange sound yeah it's a strange sound but the problem is that i i'm able to go a little bit forward but after isn't the possibility there isn't the possibility to go because there are woods you know what you can try to find some pieces of wood put them under the wheels and then we can finish the video with you ok ah ah this could be an idea we see later yeah come stanno i tuoi piedini sono un po stanchi freddi freddi chi vuole venire a scaldare i piedini a iris c'è la coda freddi 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 si però meno male oggi non fa freddo fuori solo l'acqua era fredda la prossima volta prendiamo la calda la prossima volta esco di casa con l'acqua bollente vediamo se riesce a tenere ah si sono d'accordo e ho i tuoi piedini come stanno sempre in forma ti sei immacchiata di fango i leggings ah pure è qui e si morirà per questo come on put again the reverse and we see what happens ciao luigi no ok i think this time we will find hard to get out of the mud ok 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 let's make one last try i really hope that in the video i don't have to go out of the car because ok 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 the last try push the gas pedal at the maximum i'm already doing Oh, wait, 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 wait From the other side it's better I think I will get washed, but This is a real mad shower Yeah, I think it's better if we stop the car a little while It's impossible I just said that I don't have to wash the car I can see it from the other side It's all sport Ok, salutiamo tutti Questo è proprio il saluto definitivo per oggi Finiamo il video e ci ritroviamo presto Speriamo con un'altra diretta Ciao a tutti